Uno speciale polifemo con Irene Lamanna, siamo presso l'albergo Lamanna, sito a San Vito. Irene Lamanna è presidente dell'associazione Taranto Turismo, siamo intorno alla metà di ottobre, più o meno la prima decade di ottobre è superata e quindi possiamo fare una analisi a tutto tondo di questa stagione estiva. Irene Lamanna ovviamente, essendo una operatrice del settore, ha il polso della situazione. Che estate è stata e poi soprattutto quali le prospettive, perché se parliamo di turismo bisogna anche pronunciare quella magica parola che si chiama destagionalizzazione, non si vive di turismo solo in estate, per carità l'estate è prioritaria, però l'anno è fatto di 12 mesi, non solo di 3-4 mesi. Un primo bilancio? Sicuramente Taranto, come mi è capitato di dire anche in altre occasioni, è un territorio, una destinazione turistica tutto sommato molto fortunata, perché comunque abbiamo una sezione del turismo, che è il turismo business, che ci dà l'opportunità di promuovere il territorio per 365 giorni all'anno. Indubbiamente l'estate è stata un'estate molto importante, ma paradossalmente come l'è stata anche quella trascorsa nel 2020. Sono state due estati in cui si è visto il movimento turistico in maniera importante, sia dal punto di vista business, sia dal punto di vista leisure. Quest'anno magari con la garanzia, la sicurezza dei vaccini? Assolutamente, sicuramente molto importante la sicurezza dei vaccini, anche se per quello che riguarda in particolare la nostra struttura alberghiera, abbiamo attivato un protocollo Covid sin da marzo del 2020 molto serrato, quindi da noi si arrivava già con tampone negativo, da prima che il governo lo consigliasse, quindi per protocollo interno della struttura alberghiera. Nell'estate appena trascorsa, noi oltre ai vaccini, che per carità sono sicuramente una nota positiva per la salvaguardia di questa pandemia, ma chiedevamo ai nostri ospiti anche il tampone negativo, proprio perché, come si sa, il vaccino non esonera l'infezione da Covid. Pertanto, per tranquillità sia dei viaggiatori e sia anche nostra, che comunque la vogliamo all'interno delle strutture, abbiamo chiesto a ulteriore nota di garanzia. Ecco, vediamo un po' i numeri, perché almeno stando un po' al bilancio, ai numeri che non sono freddi in questo caso, ma sono caldi, si è registrato su Taranto Città un significativo incremento. Certamente ci sono state iniziative, però forse è il caso anche che non siano le singole iniziative a far, come dire, alzare il picco, ma occorre normalizzare la stagione attraverso, evidentemente, politiche turistiche che assicurino, al di là di questo o di quell'evento, una continuità nei flussi turistici. Certo, Luigi, è importante che durante l'intero anno il territorio, oltre ad avere il suo trampolino di lancio, il suo zoccolo duro, che è il turismo business, si circondi di altri eventi che in questo momento storico, insomma, il territorio sta offrendo. Sono degli eventi quasi non più spot, ma quasi mensili, quasi giornalieri, che ci consentono di cavalcare le testate giornalistiche, ma non solo, anche i circuiti di prenotazione alberghiera in maniera più importante rispetto a prima. Quindi una nota a favore del territorio e della destinazione turistica. Certo, imparando a crescere ci saranno sempre più eventi che daranno un ritorno leisure alla destinazione turistica Taranto. Perché noi abbiamo delle realtà italiane, penso Rimini, Rimini ovviamente, ha certamente un mare, il nostro è di gran lunga superiore, ma al di là di questo però Rimini sa destagionalizzare. Pensiamo ai vari convegni, ai vari meeting che appunto si sviluppano in tutto l'anno. Quindi diciamo terminata la fase estiva, che è quella principale sotto l'aspetto dei flussi turistici, però si destagionalizza attraverso tutta una serie di iniziative che attraggono persone. Allora Luigi, queste che tu chiami iniziative hanno un preciso segmento all'interno del turismo e si chiama turismo congressuale. Il turismo congressuale è un turismo che da Roma in giù non è sviluppato e che per ovvie ragioni, soprattutto fieristiche e soprattutto di spazi e di strutture alberghiere, è più diffuso da Roma verso il nord. Diverso è invece il turismo business, che al pari del turismo congressuale vede Taranto sicuramente nella regione Puglia più avanti anche rispetto magari alla stessa Bari. Quindi sì, Rimini riesce a destagionalizzare più che col turismo congressuale, col turismo fieristico, che è un altro segmento ancora sempre. Ci sarebbe anche il turismo religioso e Taranto quanto a Riti è invidiabile? Assolutamente, non solo quanto a Riti ma anche nell'offerta proprio del turismo religioso. Noi possiamo vantare un museo diocesano che è di tutto rispetto e che è assolutamente... Che è permanente peraltro. Che è permanente ma che è un fiore all'occhiello del territorio, della nostra destinazione turistica. È sicuramente un pezzo di storia importante del turismo religioso. Un quadro certamente positivo, lo dicono i numeri. Lo dice, dicevo, un'operatrice del settore qualificata, quale è Irene Lamanna, ma cosa chiede a Babbo Natale, visto che ci stiamo avvicinando a Natale, nel senso che quale deve essere il salto, quel quid pluris che consente davvero di far crescere il territorio. Perché ora noi abbiamo una serie di potenzialità, molte di esse si stanno esprimendo, quindi dalla fase latente stanno passando a quella, diciamo, proprio del manifestarsi. Qual è il salto di quota che si deve fare? Il salto di quota per la promozione del territorio sono i servizi. La destinazione turistica Taranto deve promuovere con l'aiuto e il sostegno dell'amministrazione che sicuramente sta dando un importante contributo, ma deve puntare al miglioramento assoluto, sono i servizi urbanistici del territorio per il turismo. E poi c'è anche il discorso più ampio delle infrastrutture. Penso ai collegamenti ferroviari, penso al fatto che da Roma in giù inizia il Medioevo, purtroppo, quanto a collegamenti, penso ai treni, penso a Roma-Taranto e Taranto-Roma, per esempio. Penso all'aeroporto. Beh, certamente con adeguati collegamenti parleremmo di tutt'altra storia. Questa è una nota dolente. L'aeroporto che non vola, quello di Grottaglia. Si pensa però ai voli aerospaziali. Cioè, Irene Lamanna, un weekend, uno dice, anziché andare dall'albergo Lamanna, prendiamo un volo da Roma, ce ne andiamo su Marte. Ma penso che questa sia un po' una caricatura. Questa è stata davvero un'iniziativa quasi goliardica. Irritante per chi vuol vivere di turismo, o come operatore o come fruitore. Sì, sicuramente potrebbe essere un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per chi volesse prendere in maniera veloce un aereo per andare su Marte. Però, indubbiamente, le infrastrutture e i trasporti sono un gap importante per il nostro territorio. Ed è un vero peccato che, a questo punto, non posso rivolgermi all'amministrazione comunale, ma devo rivolgermi a quelli che... Ai tavoli baressi, regionali e romani, soprattutto. Soprattutto romani. Soprattutto romani, ma io inizierei dalla regione. Io ascolto, leggo, seguo i passi dei consiglieri regionali che, purtroppo, sono davvero molto lenti e che magari puntano a risolvere problemi che o vantano di risolvere problemi che dovrebbero riguardare unicamente l'amministrazione comunale, ma che invece... Insomma, dei quali se ne prendono carico. Per evitare che Taranto sia un po' la cenerentola della Puglia, non lo merita? Non lo merita, ma soprattutto, ribadisco, i consiglieri regionali dovrebbero puntare su quello che è il fiore all'occhiello dell'economia futura che è appunto puntata principalmente sui servizi e, di conseguenza, sul turismo. Per concludere, ho menzionato prima l'arrivo di Babbo Natale. Siamo a metà ottobre, più o meno, due mesi, due mesi e mezzo. Beh, per Natale, per il periodo natalizio, che flussi si prospettano? Perché l'anno scorso c'era questo bubone del Covid. Ora il Covid, grazie a Dio, è molto sotto controllo. In Italia non ci sono, sono quasi tutte, credo, zone bianche. Beh, bisogna, come dire, puntare sul Natale. Non siamo certo curmaie o sermose, Moritz, però abbiamo altre bellezze da mostrare. Sicuramente. Diciamo che il lavoro, in questo caso, deve essere fatto fortemente dalla provincia, perché i nostri attrattivi turistici sulla destinazione Taranto e provincia nel periodo natalizio è fortemente trainato dai paesi della provincia d'Italia. Siamo, per esempio, ai presepi viventi, tanto per dirne una, o altri riti, tradizioni. Però, dal tonde, quando parliamo di comuni della provincia, stiamo parlando di 10 km di distanza, 20 km di distanza. Cioè, voglio dire, è il sistema Taranto in generale. Poi, è chiaro che chi va a vedere il presepe vivente di Faggiano, che è il più grande del Mezzogiorno d'Italia, non è che muore a Faggiano la persona, il turista. Il turista si va a vedere Taranto, va al Martà, tanto per dirne una. Esatto, esattamente. La provincia deve essere il trainante della destagionalizzazione di natalizia, affinché poi, quindi non devono viaggiare da soli, ma devono viaggiare nell'ambito di un'organizzazione provincia-comune che promuove il territorio in una linearità di locandina d'eventi, quindi che parte appunto da quelli che sono i presepi, perché noi non abbiamo i banchetti natalizi, ma abbiamo i presepi viventi nell'Interland della provincia, e poi con un percorso interessante passare poi da Taranto, che rimane sempre un territorio affascinante anche d'inverno. Un'ultima riflessione davvero, l'arrivo delle navi da crociera. L'arrivo delle navi da crociera è certamente un fatto importante, ma è davvero determinante? Per la crescita del turismo locale sicuramente no. Non bastano le sole navi da crociera? Non servono le navi da crociera per fare turismo, perché il turismo croceristico è addirittura un altro segmento turistico, ma è sicuramente importante tracciare, essere presenti nella rotta tracciata dal turismo croceristico. È un modo per promuovere, è un'operazione di marketing che sicuramente è importante. È un'operazione di marketing sia sulla rotta che viene tracciata, e quindi sul nome che viene promosso anche nelle rotte delle crociere. Ma sicuramente un'occasione affascinante per il turista walk-in, che si trova sul territorio, insomma che ha la possibilità di ammirare, seppur una volta alla settimana, queste navi ormeggiate per un giorno, due giorni all'interno del porto. Bene, concludiamo qui questa chiacchierata. Alle nostre spalle abbiamo il tuo collaboratore Simone. È giusto che i giovani, i tarantini, soprattutto, si formino, perché Taranto è una città turistica, ed è giusto che i nostri concittadini, come dire, mettano radici qui, perché andare ad arricchire altre città, già ricche sotto l'aspetto turistico, quando le ricchezze le abbiamo già in casa. Quindi è, come dire, un circuito virtuoso. Certo, l'importanza del nostro lavoro deve essere quella di formare personale valido per il turismo locale, che purtroppo negli anni passati dai passati imprenditori tarantini non è stato, insomma, lavorato, diciamo così. Bene, concludiamo qui. Questo albergo La Manna è sempre un motivo di ricordo piacevole, perché tante trasmissioni di Polifemo le abbiamo registrate qui. Quindi, quando siamo venuti qui, siamo arrivati pochi minuti fa, per registrare, beh, come dire, tutti i ricordi sono, ora è una struttura davvero, è sempre stata elegante, ma ora acquisito davvero una dimensione degna di Taranto, capitale della Magna Grecia. Grazie davvero Luigi, sei e siete, tu e il tuo staff, sempre benvenuti e sicuramente... Qualche puntata la dobbiamo fare. Esatto, ti stavo proprio per invitare su qualche puntata nel giardino d'inverno che abbiamo allestito all'esterno, proprio per poter, anche da protocollo Covid, svolgere attività come, insomma, la formazione, come eventuali trasmissioni, ammirando sempre il giardino d'inverno.